Ancora buongiorno a tutti, allora sto vedendo molti commenti sul mancato ingresso di Lazetich Prendo spunto da un commento a cui ho appena risposto Allora ragazzi, Stefano Pioli non è la prima volta che lo fa Di aspettare di portare un giocatore a regime squadra Ragazzi è un dato di fatto che in altri campionati Gli allenamenti e le preparazioni siano completamente diverse Quindi ci sta che non sia entrato Lazetich E' giusto che sia entrato Daniel Maldini e che sia entrato Rebic Ragazzi l'abbiamo già visto fare da Stefano Pioli Messias, Florenzi hanno giocato dopo un po' nel Milan Perché dovevano mettersi a posto con la preparazione E soprattutto di solito la critica italiana è feroce Perché rischiare di far dare giudizi affrettati a qualcuno Da parte di qualcuno a questo giocatore Ciao ragazzi Grazie